Nuvoloni neri si addensano sul futuro del Teramo ed era ampiamente prevedibile una reazione di Iacchini dopo la mancata approvazione del piano economico finanziario che ha visto la discussione in rinvio e l'avvio di una serie di procedure tra cui la richiesta di un parere all'autorità anticorruzione che prenderanno un tempo poco compatibile con le scadenze federali del 28 giugno quando le società di Lega Pro dovranno avere i documenti a posto per essere al via del prossimo campionato. Stamattina la nota del presidente del Teramo che come si legge ritiene conclusa la sua esperienza societaria in considerazione della mancata concretizzazione delle trattative tese all'individuazione di nuovi investitori nel capitale sociale della Teramo Calcio e trovandomi già nell'annunciata condizione di non poter impegnare ulteriori capitali del bilancio familiare come fatto finora in maniera molto consistente mi trovo costretto, dice Iacchini, a valutare seriamente l'ipotesi di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Lega Pro la stagione agonistica conclusa, fortemente condizionata dalle difficoltà organizzative e economiche in maniera più incisiva rispetto alla precedente dall'emergenza pandemica che ha soltanto fatto lievitare i costi di gestione senza far registrare alcun sostegno concreto all'esposizione finanziaria dei club professionistici ha imposto una seria riflessione sul prosieguo dell'attività se a questo, continua Iacchini, si aggiungono lo stall e l'incertezza legati a manifestazioni di interesse presentate a questo club ma che alla verifica concreta si sono rivelate prive di consistenza o aderenti al richiesto partenariato più volte da me invocato nel corso degli ultimi mesi devo mio malgrado ritenere conclusa l'esperienza societaria l'impegno finanziario sostenuto per il teramo calcio conclude Iacchini nel corso di questi due anni ha superato di gran lunga quanto ipotizzato e la salvaguardia delle risorse economiche della mia famiglia e delle attività non consigliano l'intrapresa di un'altra stagione agonistica che si annuncia uguale nelle prerogative alle precedenti a questo punto, qualora Iacchini confermasse il suo intento e non tornasse indietro, come già fatto ad esempio 12 mesi fa ci sarebbe da trovare un acquirente capire quali margini di tempo ci sarebbero per cercare di salvare il professionismo o magari ripartire da un gradino più in basso e ritentare la scalata verso la Serie C a stretto giro in ogni caso, andrebbe comunque risolta la questione stadio anche per l'eventuale nuova dirigenza a quel punto l'amministrazione comunale dovrà porsi come garante della continuità calcistica della città ad oggi fortemente a rischio